Questo è Caronte, parla di traghettatori, di monete Perché il video sia ben riuscito non dovrete mai smettere di approvodire Ebbene, saremo grandi Sorte mio calice, udì gli odi di una vergine Le mie mani calchiorte non strilsero quel bel fiore 30 denari un bicchier di rum, 27 gambe rotte Sono 30 denari un bicchier di rum, per 35 teste, teste 15 casse da morto, 27 gambe rotte Sono 15 casse da morto, per 35 fessi Due le monete al traghettatore 35 anime, sono due le monete al traghettatore Per 35 feste, per 6 16 sedi di donne, 8 di sedi pesce Sono 16 sedi di donne, per 35 feste 35 anni, sono due le monete al traghettatore 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 l'acustico